19esima giornata del girone A di serie D al battaglia arriva all'oltre provogliera per una delicatissima sfida salvezza. Per il battaglia arriva all'oltre provogliera per la presa del girone A di serie D al battaglia lo 0 a 0 con cui le due squadre vanno all'intervallo è il risultato di un primo tempo decisamente poco brillante i fuochi da addificio arrivano nel secondo tempo Alex Romano indimenticato cuore granata porta avanti l'oltrepo e quarto minuto Buglio con una punizione magistrale raddoppia al 14esimo plumbai dal dischetto riporta la bustese in partita 1 a 2 il gran finale deve ancora arrivare guardate come a rendere meno amaro il pomeriggio della bustese ci pensa Pariani oltrepo Bughera batte bustese 3 a 2 a 3 a 3 a 3 a 4 a 4 a 5 a 5 a 6 a 5 Grazie a tutti